In Europa, cinque volte campionessa europea, tre medagli d'argento in mondiali, molto nota, molto conosciuta. L'ammiriamo nel Carmen Mero. Hai visto che trucco? Sì. Il piccolo salto fa proprio al pelo con la bala usa, ricordiamo che è più piccola delle piste regolamentari, questa pista. Bellissimo il contrasto dello scuro col colore del cielo, senza calze, con quella specie di ghette. L'amiriamo nel Carmen Mero. L'amiriamo nel Carmen Mero. Attenzione! anche lei la sua specialità con le gambe in spaccata Surya, Don Ali il francese anche se ormai vive a Las Vegas e è cittadina americana dal 2004 la ricordiamo come tra le più grandi in Europa e poi adesso direi che non inserendo più nei suoi programmi tutti quegli elementi tecnici che lei era solita fare è diventata molto più morbida cioè ha eliminato tutte quelle lunghe prese dei salti quindi qui vediamo un doppio tolbo ricordiamo che lei l'aveva eseguito anche quadruplo però non netto per cui non fu mai omologato dall'international scale è